Si è conclusa in meno di due ore l'udienza preliminare per l'omicidio di Ismaele Lulli, il 17enne, ucciso la scorsa estate in un boschetto di Sant'Angelo in Vado. Passionale è il movente dell'omicidio. Il ragazzo era stato stordito con un calcio alla testa, legato con del nastro adesivo e sgozzato. Gli inquirenti lo avevano definito un delitto da videogame. Urla e insulti oggi sono stati rivolti ai due imputati, Igli Meta, 21enne Reoconfesso, e Mario Mima, di 20 anni, quando sono scesi dai mezzi della polizia penitenziare per entrare nel tribunale di Urbino. L'ingresso è stato vietato ai giornalisti che hanno atteso in strada gli sviluppi dell'udienza, durante la quale non è mancato un colpo di scena. I difensori di Meta, gli avvocati Carlo Taormina e Salvatore Assole, hanno chiesto al GUP Vito Savino di interrogare il loro assistito con la formula dell'incidente probatorio. Ci sono nuovi elementi che potrebbero ribaltare il quadro indiziario, ha annunciato Taormina, ma la domanda se Igli chiami ora direttamente in causa l'altro indagato, Mario Mima, illegale, non ha risposto. A quel punto il pubblico ministero, Irene Lilliu, ha chiesto di ascoltare con la formula dell'incidente probatorio anche l'amico ventenne, richieste cui il difensore, l'avvocato Umberto Levi, ha già preannunciato opposizione. Il GUP ha aggiornato l'udienza al 7 giugno, giorno in cui renderà nota la sua decisione sulle istanze del PM e degli avvocati.